Ci troviamo all'area Exifip, dietro la Chiesa della Pace, dove da mercoledì 11 dicembre aprirà il nuovo parcheggio speciale per il periodo di Natale fino al 30 gennaio, il parcheggio Pacebis. Avrà 250 posti, costerà 70 centesimi all'ora e si pagherà grazie a questi parcometri che sono stati installati. È stata sistemata adesso qui l'illuminazione e l'area è stata resa attrezzata per un parcheggio. Vedete come è stata sistemata tutta l'area. L'ingresso al nuovo parcheggio sarà da Viale della Pace, la strada che congiunge la stazione alla fiera, al parcheggio nord della fiera e si trova esattamente di fronte al nuovo terminal delle Corriere extraurbane. Ci sarà un'uscita pedonale che si trova qui, proprio accanto alla Chiesa della Pace e sarà qua. Da qui, attraverso una passeggiata di una decina di minuti in via Gozzi, si arriva in via Porciglia da lì in centro e poi ci sarà un'altra uscita pedonale invece per chi deve raggiungere la stazione che sarà lì in fondo accanto al Grattacielo Azzurri.